Salve a tutti ragazzi, ancora una volta bentornati sul canale di OnTrip e bentornati in un nuovo episodio di Elder Ring Allora ragazzi siamo ancora qui con il nostro Gomez per andare avanti con la nostra avventura Ma Sono arrivato a questo laghetto qua e ho visto della roba che sbrillucci che adesso andiamo a vedere che cavolo è Non prima di aver fatto fuori questo, se si gira Scusi Mi faccio fuori Due suoi O si incazza? Ok Aspetta Di qua Ok Se lucciole d'oro forse mi interessano Vabbè, zanzare no E questi Madonna Togli il lock Figlio di Qualcosa c'era? Ma nulla di che? Nel senso non ha dato niente? Va bene Perché dovrebbe dare qualcosa Perché dovrebbe dare qualcosa? Non ha senso E adesso c'è sto zanzare qua che Mi sta in aggro quindi Ah due Vabbè Torrente dai Esci da qua che E se no Togli il lock Andiamo a vedere Se riusciamo a togliere l'aggro da Staccazzo di Zanzare di Merda Ok E Allora andiamo a vedere che cavolo c'è qua Ci teletrasportiamo Perché Qua ormai abbiamo già visto E risolta il pianto Ok E qui Riusciamo Non proprio Eh? Scusa Questo è un castello O è Eh sì Come? Ci saliamo Il castello Scusa Ah di qua Andiamo No è un castello Ma è È una trollata Cioè nel senso Ci si va da questo Lato Perché lì vedo un oggetto Da prendere Però 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 E ci sono tutte Le mura È un bel casino Perché io non trovo Un punto per scendere Da qua Quindi non ci si vede da qua Vediamo se riusciamo a suicidarci Quanto pare No Ande Eh scusa Sai dove Posso passare Ah di qua È rotto qua Credo di sì Poi faccio il giro Di là Aspetta Facciamo il giro Di qua Yes E ho visto Un oggettino Qua sotto Ma Non possiamo Raggiungerlo Qua è tutto Chiuso Aspetta A meno che Io non salga Dal di qua Poi salga Dal di qua Sì Ok Che ci fai tu? Giona Che traforgiatura Vabbè La pietra Ok Sì Ok Ammesso è non concesso Che qua Sono solo mura Quindi Andare a vedere Questo Laghetto qui Speriamo Per la fine Il castello No Ah c'è un albero Però aspetta Un attimo L'abbiamo già preso Ragazzi Aspetta che non lo so Beh Perché non credo Però Infatti Seme d'oro Ok Va benissimo Seme d'oro Ci piace Mi fa torrente In shop Però torrente Dai Su Sì Come potete vedere Tra le barre Lassù Ho fatto un po' Di Di livellamento Questa è Schifidume Ah ma c'è anche Il gran chiaccio Grandissimo Ah basta una Torrente Mazza che cattiveria Opa la Torrente Ok Rallenta Ma in mezzo a tutto sto marciume Esiste qualcosa che possa Vagamente Interessarci O è solo una cosa così Come è solo una cosa così Aspetta un secondo E la Vabbè Togli sto lock Lì c'è un oggettino Prunaure a 4 E va bene È tutto qua Mi sa E anche qua c'è della gente Che è venuta qua Attenzione a saltare Strada Non ho saltato Sono scivolato È diversa È diversa È diversa No qua comunque Non c'è un tubo di niente Bene Perfetto E andiamo al castello Andiamo al castello E che cazzo E vediamo di qua insomma Che cavolo c'è il castello Ok ragazzi Ho recuperato le mie rune qua Sto a posto adesso Vabbè Qua c'è il Il tizio Torrent Perché sei sceso Scusa Ritorniamo di lava Allora lì Come sempre Alberone Ma il castello È qua Ok Andiamo a vedere anche di qua Se c'è qualcosa Ci siamo persi Anche se non penso Vediamo un po' Vedete sapete com'è Una grotta Una caverna Qualcosa Ma c'è la spiaggetta Vabbè Questo non ci interessa Giusto Dove essere quello Che ricarica le pozze Yes Qui abbiamo solo La spiaggia Eh abbiamo solo La spiaggia Di là No Solo spiaggia Ok Vabbè Avanti Questa zona Credo che l'abbiamo vista Tutta Comunque ragazzi Voi Ricordatevi Like Commenti Condivisioni Ok 7 centili E cercate di dare Una mano Insomma È gratis Insomma Dai Non è che si pagano Però Qua c'è una grazia Insomma Non è che si pagano Dai Un like Un like Un like Un like Un like Un like Commentino Tra l'altro Ditemi se mi sono perso qualcosa Perché Ricordatevi che Cioè È facile Vabbè Stesso Cazzo Devo ricaricare Non devo ricaricare Niente Leva E leva E levate Ok Andiamo su E qua nel castello C'è qualcuno Di cattivo Oppure Tutto in scioltezza Non lo so Ricordo comunque Siamo sempre U per livellati Per questa zona Quindi Per il momento Castello di moa Allora Cani Scusa Oh Non è morto Oh E niente Ma com'è che io ho visto Della gente che con gli attacchi In salto Non gli fanno una sega Ma proprio Zero E ogni volta che io faccio Un attacco in salto A me Io subisco danno Perché Tutta cosa Dai attacca Mi sono riuscito Oh Allora Poi quello Che cazzo E beh Quello ci pensiamo Poi alla fine Scusa Aspetta però Perché questi Ah Picchiano Cazzo Picchiano si Oh Ah Questo era quello cattivo Ok Vabbè a parte le farfalle Va benissimo così Ci piace Grasso incendiario Qua stavano bruciando Una fila di cadaveri Della Da panico proprio Ok E altre farfalline E altre farfalline Ma ci servono Veramente Ste cose Secondo me No Vabbè 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 Tra il santuario E qua che c'è Va bene E una scala E una scala Beh non è che abbiamo esplorato tantissimo in zona Però Vabbè Vabbè E basta uno E la E si dai ho capito Dove lo stocco Ok Comincio a usare la magic Quando Madonna Ci sono I cosi che volano Il che non va bene Capite che non va bene E Più avanti Grazia perduta Ah è vero Ma è necessario Andare Si che è necessario Grazia perduta E ok Abbiamo trovato Sta grazia Ma Come cavolo Ah di qua Si c'è E non posso andare Dall'altro lato Qui Tanto pare si può Perché là c'è un messaggio Non ho capito come Vabbè Quindi ci si butta da qua Bene 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 Ma era necessaria la grazia lì? Oppure No? Vediamo dove ci sputa Qua invece Carina Lì c'è un oggetto da prendere Non male E qui Si muore Però là Ci si può buttare Quindi O ci buttiamo di là O l'oggetto Ma io direi l'oggetto Eh chiave Della cosa Di Christ Va bene E ci siamo persi Il brillio Dello scarabeo Che non ho capito Dove cazzo sia Non lo trovo E qua dentro Boscata più avanti Salve Salve Non si può Non si può Allora questo era il buco Che abbiamo detto Ci buttiamo Quindi Ok Siamo risolto Eh Vabbè Ok Di qua niente Va bene Lì ci si può buttare Sì E lì c'è Ah ok Però quella è Credo che Quella che Recuperi le pozze Merda È la magic Sbagliata Scusi Ok Ma ha senso Andare qua su Non credo Aspetta Salve Porca Mignotta Ma Non è che Abbia molto senso Secondo me Però lì c'è Una scala Andare sulla scala Ragazzi Magari il video Durerà un po' meno Purtroppo Le tempistiche Sono quelle che sono Abbiamo 112.000 Rune Talismano Della lama gemella Potenzia il colpo Finale degli attacchi Con un catenati Eh ok Non è male E nient'altro Per andare dal tizio Che stava squartando La roba là Come cacchio Se fa Allora mi sa che siamo Abitu Scusate Obbligati Poverire abituati A saltare sul Sul tetto Perché qua Io non vedo Nessun'altra via Ti lasciamo venuti Sì Eeeh 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 Senti qua Sì Bello Dove no Allora Girassule Auro Ha passito Capirai Vabbè La sensazione Che mi sto perdendo Mille 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 robe Perché Credo che Il nostro obiettivo Sia raggiungere L'isoletta Però Cioè mi sto Veramente Perdendo Qua Bella Miseria Ok Topastri Siamo finiti In gabbia Frusta Madonna la frusta Messaggio volante Non è possibile Sta cosa Vabbè La frusta Abbiamo trovato Ma la frusta Eeeh Ne roba OP O è ne roba Così Per dire Forza 8 Destrezza 14 Ma che roba Eeeh Ah Vabbè Siamo in Fatto No Stiamo ancora Va Volevo provare A dare qualche frustata A qualcuno C'è qui Qualcuno Da frustare Eh Eh ma lei Non è esattamente Il minion Che avrei voluto Frustare Subito Via 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 Ah Guarda Ci sono anche I figli di troia Che tirano Vabbè Senti E io non ho tempo Da perdere Con te Quindi Ok Ma gli vorrei tirare Una cometa Ma non so Quanto Vabbè Complimenti Basta Eh basta Eh basta Eh La pozza Me l'ha già vata Bere Ok Eh peccato Bella frusta Avrei voluto Vederla Cristo Sì ma su qualcosa Di debole Non su qualcuna Di Di Ci sono Delle Meduse Potremmo provarla Su delle meduse Noi siamo finiti qua Eh siamo dove Volevo andare io Però Non ora Cioè Cioè Volevo andarci Però Ho capito Perché adesso È una frustata Ma non c'è la medusa Vaffanculo Medusa Scusa Possiamo Medusa Va bene Non gli ho fatto un cazzo Ha frustata E la medusa Vabbè Bella Carina Non fa un cacchio Di danni Si sa Perché scala Su quello che noi Non abbiamo Ovviamente Ma Queste scalano bene Oh cazzo Questa dovrebbe Scalar bene Ok Sono serio Yes Ma che c'è già il boss Ma c'è di già il boss Capite che se c'è di già il boss Siamo andati di là Con il ponte Eh vabbè Ma Siamo scesi Dalla scala La gente Si è suicidata Eh si dai Il boss Eccolo là Guarda Eh Vabbè E vabbè Ragazzi Che vi devo dire Boss Vabbè 113 mila Gli facciamo Un male cane Però 113 mila Un male cane Ciao ciao Progenie Leonina Ciao 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 Spadone della lama Innestata Non achievement Quindi era un boss Obbligatorio Insomma Qui c'è anche La grazia Che io mi scederei Qua ma Dai Gazzo Toglimi sto Cristo Di messaggio Perché Il cretino Che ha messo Il messaggio qua Non riesco a sedermi La grazia Raga Non riesco a sedermi La grazia Guardate No vabbè No vabbè Vabbè Ma dai Ma sono serio Voglio la grazia Voglio la grazia Ma porca puttana È necessaria È necessaria Sta grazia Voglio dire Io Però Secondo me Se c'è Un motivo C'è C'è la messa Dico Toglimi sto Cazzo di messaggio Cazzo di messaggio Me l'ha tolto Tocca la grazia Meno male Ok Ha funzionato Funzionato Fermi tutti Va bene Noi la progenie Leonina Tipo L'abbiamo Abbattuta E ok Ma io Non ho trovato Il tizio Che cercava La tipa Il padre della tipa La Come si chiama Non l'abbiamo mica trovato Raga Scusa Albero Ancora niente Vabbè Sti cazzo Ciao Mamma mia No niente Cavallo Ok E vabbè Questo bello è carino Ma è necessario Un teleport adesso Per tornare là Perché mi rispauna tutto Cioè capisci Che mi rispauna tutto Quando serve per il livello Scusate Ci saremmo quasi Bastano 4000 E direi con livellino Raga Quasi quasi Che dite Vabbè Allora Niente Prendiamo la grazia qua E ci potremmo spostare Boh Al montacarichi Che cazzo Adesso Perché là c'era il tipo Non lo so Eh Abbiamo visto Eh ho capito Ma ce lo rifacciamo Così Quello è il fatto Il tipo Che cercava La ragazza Do cazzo sta Do cazzo sta Ah E' possibile Andarci lì No Sì perché Non vorrei Tanto Stare qui A Gigioneggiare Con Castello di Amor Va bene Qui c'era il cane Va bene Ma scusate Ma i cani Non ci arrivo Omega E lì c'era la scala E qui Scusate Non è che qua Magari c'era Qualcos'altro Forse sì Vediamo Che falle però Sì 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 Stai picchiando Ho capito Stai picchiando Gomez No va bene Ok lo accetto Però basta Dopo una certa Eh no Qua non ci siamo stati La Claymore Va bene Una spada La Claymore Che è sempre stata Tipo Sgravata In tutti i souls Boh Questo Io non l'ho mai Utilizzata Cioè anche perché Non mi sono mai Trovato con la Claymore Perché non faceva L'attacco Basso E bene Anche questo Stocco qua Lo sta facendo Effettivamente Ma Però Diciamo che Tanto mi dà tanto Qualcosa in più Lo fa Cioè Il secondo attacco Di questo Stocco qua È un po' Basso Vedete La Claymore Proprio che no Ma le sventagliate E orizzontali E Insomma Non mi è mai piaciuto Però era molto forte Come spada Tra l'altro Spade Sono riprese Da Castlevania Stai qua Aspetta Giovane Beh Hai visto Aspetta Arrivo Arrivo Da una mano No Volevo prendere Questa qua Perché Sono figli di troia Volano Non volevo Prendere il soldato Da soldato Ti aiuto io Eh Vabbè Hai vinto Comunque Vabbè No ma qua Non c'eravano Già state Anche qua No Era simile Qua ci sono gli impiccati Se no quell'oggetto L'avremmo preso Ah Qua c'è la La Cosa Che picchia Vedete Qua stava picchiando Che cazzo stai picchiando qua Nessuno Fantastico E Torcia fili d'acciaio Che cazzo è la torcia Qui d'acciaio Unaia di ferro Ah e là si sale Boh Proviamo a risalire Ho salito da lì Sì Ma starà sulla torre Il tizio Che cazzo C'è niente qua Qua si va giù di qua E Boh Raga Boh Boh Proviamo Qua si scende di qua Senti Va te ne va Torna quando sarai più grande Allora Ma non ci siamo stati Sto oggetto non l'ho preso Oh Ti ho beccato eh E che cazzo Altra gente che combatte Strano Molto strano Ste cose Ah lì c'era la grazia Va bene Ah no forse Dovevamo proprio fare il giro Così Ma non ci siamo stati Quale l'ho fatto Senti mi butto giù di qua E vado là Questi cazzi Oppure questa era la strada No 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 Non era la strada E qui scusa Tanto lasciamo stare No ok Ho capito dove siamo Vabbè c'era una scala lì Vabbè Eh ma io chiedo scusa Ma Capite che Abbiamo dei problemi qua Hai vinto Grande soldato Hai visto che bravo Foro un'aura No hai vinto No io ti ho dato una mano prima Sono quello che Vabbè Vaffanculo E allora Te le cerchi E allora te le cerchi Non lo so raga Cioè Io Credo che A questo punto Mi conviene che ci salutiamo qua Perché il tizio Non lo sto trovando Eccolo Scherzavo Non lo sto trovando Dicevo ho trovato Eccolo qua Sì Eh ho capito Va bene Ho saltato Una cosa Pramoscello Sacrificale Eh Ti consegno la lettera di Irina Irina Sì Prego Eh sì ma Non c'è più niente La fa Cioè dai Vattene Ok Quindi abbiamo fatto Cioè dobbiamo solo Magari Magari qualcosa di importante Fatemelo sapere Tipo Ti senti mettere un oggetto Line A 21 1 e 35 secondi Blablabla Poi vado a vedere Fungo ragazzi Evitate Però magari Se c'è qualcosa Di importante Che voi sapete Fatemelo sapere Nei commenti Ok E niente Ragazzi Io qua Vado da Irina E vado a dirgli Che suo pa Non So panna Non se poffa Niente Irina Il padre Non vuole Il combatte Ragazzi Ma sto alla penisola Del pianto Ma qua ci dovrebbe essere Irina A qualche parte Ah no Era di là Aspetta Allora Vipi C'è Grina Cosa No Eh che cazzo Ma te l'ho detto Non tornare indietro subito No 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 Vabbè Dai C'è Ragazzi Non No 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 Non ho il gesto Giusto Eccolo qua Ma porca Miseria Irina Irina Non dove Ma chi è che l'ha ammazzata Ma perché ammazzarla Non ha mica senso Questa spada qua Secondo me Qualcuno Di cattivo E grosso Niente Questo vuole vendetta Vabbè E vabbè È morta È morta È morta No No vabbè Incredibile che nessuno Però abbia scritto un messaggio Prova a buco Eccetera Eccetera No ci sono i messaggi Vediamo Sì 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 Dai vabbè ragazzi Comunque È con estremo disappunto Che io vi saluto E vi do appuntamento Alla prossima Qui dal nostro Gomez Adams Peccato ragazzi Like commenti Condivisioni Tutto sto mazzo Per niente Eh Ci vediamo alla prossima Ciao raga Ah ragazzi Scusate Dimenticavo Prima di salutarci Livellino 120.000 E rotti Livellino Dai livellino E livellino Lo mettiamo a Io lo metterei A destrezza No destrezza No A tempra Ma sì Mettiamolo a tempra Dai Se non ci serve Molto la tempra Però Ok Perfetto ragazzi Grazie mille Come detto Ci vediamo alla prossima Ciao ciao 136 livelli Rendibile Grazie mille